La Regione Toscana ha destinato 5 milioni e mezzo di euro al finanziamento di interventi di efficientamento energetico di quattro ospedali del Servizio Sanitario Pubblico che hanno partecipato ad un bando regionale emanato nel 2017 finanziato attraverso fondi europei, l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, l'azienda ospedaliera universitaria delle Scott a Siena, l'ospedale di Nottola a Montepulciano e quello di Campostaggia in Alta Valdessa nel Senese. La scelta della Regione è stata quella di concentrare le risorse sugli ospedali. Ma io ritengo sia stato un intervento molto importante perché si tratta di una grossa cifra, 5 milioni e mezzo di euro, che vanno su interventi di efficientamento energetico in strutture ospedaliere che lo possono garantire soprattutto nell'area della provincia di Siena, oltre che al Meyer. Qui va dato merito a Monia Monni come Assessore all'Ambiente di aver ritagliato le idoneità dei progetti per raccogliere queste risorse e ai tecnici responsabili. Questa scelta ci consentirà di coniugare tre obiettivi fondamentali che sono il comfort per i pazienti e per gli operatori, il risparmio in bolletta, quindi liberare risorse per poter fare altri investimenti e ovviamente andare ad alleggerire il peso di queste strutture così importanti e così energivore sull'ambiente, soprattutto con un occhio di riguardo ai gas climalteranti che sono un tema con il quale sempre più ci stiamo confrontando e ci dovremo confrontare. Finora la Regione Toscana ha finanziato 150 progetti di efficientamento energetico presentati da enti locali e 5 presentati da aziende sanitarie ed ospedaliere.